è giusto che i colpevoli paghino con mio padre non voglio più avere a che fare parla in esclusiva radio nettuno ed è tv il figlio di roberto savi favingerato capo della banda della uno bianca che ricorda il giorno dell'arresto del padre il caso cancellieri infiamma lo scontro in consiglio comunale pronta a una mozione di sfiducia contro la presidente simona lembi che verrà presentata proprio lunedì da pdl e lega nord insieme il consorzio cooperativa e costruzioni compie cent'anni e il presidente piero collina festeggia e intanto aspetta l'ok per i people mover che non può andare oltre febbraio sul fronte civis dice rispetto la scelta di guazzaloca di rinunciare alla prescrizione sotto processo a bologna napoletano di 37 anni residente in città accusato di stalking verso una collega di lavoro con cui aveva avuto una relazione nella donna ha subito minacce e violenze vive nel terrore virtus sconfitta nell'anticipo di campionato sul campo di cantù per le vunere grandissimo inizio con un vantaggio fino a 14 punti poi il crollo da metà gara in poi finisce 78 e 72 per i padroni di casa buonasera telespettatori e ben ritrovati con quest'edizione del nostro telegiornale con la concessione della semilibertà a marino occhi pinti si è da poco aperto il dibattito sull'eventuale perdono ai componenti della banda della uno bianca di questo e di altro si è parlato questa mattina negli studi di radio nettuno nel corso di un'intervista di donna marco baroncini al figlio di roberto savi che di quella banda era il capo sentiamo allora uno stralcio di questa intervista e il servizio di gabriele sciarra io mi ricordo precisamente quella sera che fu arrestato che casa mia si riempì di poliziotti anche sotto casa era veramente pieno e infatti mi rimase impress in testa comincia così il racconto di paolo ma il nome è fittizio figlio di roberto savi il capo della famigerata banda della uno bianca che tra gli anni 80 e 90 si rese responsabile di 103 azioni criminose che costarono la vita di 24 persone e il ferimento di oltre 100 oggi paolo a 28 anni all'epoca dell'arresto del padre ne aveva 9 ha cominciato a lavorare a 15 per dare sostegno alla famiglia rinunciando così a parte della sua gioventù incalzato dalle domande di don marco baroncini e microfoni di radio nettuno ha raccontato di quel padre severo ma insospettabile del mondo che improvvisamente di crollo addosso delle visite al genitore dietro le sbarre due volte l'anno quanto concesso dalle leggi del progressivo allontanamento affettivo dal padre delle lettere che roberto savi continua ad inviarle ancora oggi e alle quali lui non risponde nemmeno più poi don marco gli chiede cosa farebbe nel caso suo padre dovesse uscire di prigione non è un problemone per me perché non è stante tutto non vorrei comunque averci niente a che fare però se me lo trovassi di fronte non saprei uno cosa dirgli e due preferirei proprio non trovarmelo quindi la questione del perdono un tema riemerso prepotentemente qualche giorno fa quando marino occhipinti uno dei componenti della banda è stato riammesso alla semilibertà provocando il profondo sconcerto dei familiari di carlo beccari una guardia giurata uccisa proprio da vinti durante un assalto alla coppia di casa lecchio nel 1988 sì mi sono messo nei loro panni non è per niente bello quello che possono aver passato i parenti delle vittime e infatti sono d'accordo con loro che è giusto che paghino è giusto che paghino e ricordiamo che l'intervista integrale al figlio di roberto savi verrà trasmessa dopo il telegiornale andiamo avanti passiamo alla pagina politica scontro durissimo in consiglio comunale pdl e lega presenteranno una mozione di sfiducia nei confronti della presidente simona lembi che ieri aveva appoggiato le critiche del sindaco virginio merola all'assemblea di palazzo d'accursio sul caso ormai discusso appunto della cittadinanza alla cancellieri vediamo il punto nel servizio di marco rossi si infiamma lo scontro in consiglio comunale a bologna dopo il duro sfogo del sindaco virginio merola che ha parlato di politica indecente per le divisioni sulla cittadinanza onoraria da anna maria cancellieri a farne le spese la presidente dell'assemblea di palazzo d'accursio simona lembi che lunedì in aula si troverà davanti una mozione di sfiducia firmata dal consigliere comunale del pdl lorenzo tomassini l'azzurro punta il dito contro lembi che ieri ha inviato una lettera a tutti gli eletti in comune dicendosi preoccupata per le divisioni e le incertezze che hanno portato al passo indietro sul conferimento da assegnare all'ex commissario a prescindere dalla valutazione sull'opportunità o meno di concedere la cittadinanza ad anna maria cancellieri commenta tomassini le parole di lembi mi sembrano assolutamente fuori luogo la presidente delegittima l'istituzione che rappresenta quindi dovrebbe fare due più due una richiesta neanche tanto velata di dimissioni dal momento che secondo l'esponente del pdl lembi ha preferito prendere le parti del sindaco invece che difendere il consiglio comunale eppure contesta tomassini lei è lì per ricoprire un incarico fiduciario e super partes io vorrei avere come presidente dell'aula una persona che ha la consapevolezza del suo ruolo istituzionale lembi non ce l'ha dice il pidiellino che si riserva di valutare la possibilità di avere una persona più adatta a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio comunale lunedì presenterò una mozione in apertura di seduta conclude tomassini e chiederò che venga discussa subito ed anche la lega nord lunedì chiederà le dimissioni della presidente del consiglio comunale di bologna simona lembi lo annuncia il consigliere comunale del carroccio lucia borgonzoni che giudica gravissima l'affermazione in cui la presidente fa credere che all'interno del consiglio vi siano gruppi o persone che privilegiano i loro interessi personali come lega nord conclude lucia borgonzoni non possiamo accettare che un ruolo di garanzia venga ricoperto da una persona che lo strumentalizza per fini politici e parliamo ancora di un caso di stalking a bologna si svolge in questi giorni il processo nei confronti di un 37enne napoletano residente in città che per anni ha perseguitato una collega con cui aveva avuto in passato una relazione minacce telefonate ed anche una violenza sessuale per la ragazza che oggi è proprio il caso di dirlo vive nel terrore il servizio e la ricostruzione di quanto accaduto una persecuzione da parte dell'uomo con cui aveva avuto una relazione un collega di lavoro fatta di molesti e minacce ma anche di un episodio di violenza sessuale una persecuzione che è andata avanti dall'aprile del 2009 al dicembre dello stesso anno e che ha rovinato la vita alla ragazza come emerso dalle testimonianze raccolte durante il processo allo stalker una 37enne di origine napoletana ma abitante a bologna davanti al tribunale del capoluogo emiliano presieduto dal giudice Rita Zaccariello l'uomo difeso dall'avvocato Sergio Pisani è imputato di stalking furto con strappo violenza sessuale atiosceni in luogo pubblico sono stati sentiti cinque testi dal pm ed è emerso il quadro di una ragazza che da allora vive una difficilissima situazione psicologica un'amica quando l'ha descritta anche pianto in pratica non esce quasi più da sola si è chiusa in se stessa ed è terrorizzata la ragazza che assistita dall'avvocato Carlo Ugolini aveva deciso di rompere la relazione l'uomo però cominciò a tempestarla di telefonate sms a controllare i suoi spostamenti a farle intimidazioni con minacce di violenze fisiche ti uccido le diceva mando all'ospedale te e i tuoi amici poi c'è stato l'episodio di violenza sessuale consumato sull'auto dell'uomo in un parcheggio di un ipermercato e anche il furto del cellulare strappato di mano alla ragazza la prossima udienza sarà l'8 giugno e allora la pagina economica il consorzio cooperative e costruzioni compie cento anni ed ha già organizzato un fitto calendario di eventi che prenderanno il via a febbraio fino al mese di luglio quando ci sarà l'assemblea conclusiva di bilancio tra previsioni più o meno fosche e progetti per il futuro il quadro del 2012 però sembra non promettere nulla di buono vediamo perché un 2011 difficile ed un 2012 ancora peggiora è la previsione non proprio ottimistica per i prossimi mesi azzardata dal consorzio cooperative e costruzioni il colosso dell'edilizia di lega cop che oggi compie cent'anni un traguardo importante che merita uno sguardo al passato ed alcune considerazioni sul futuro per ciò che riguarda il 2011 l'anno si chiude con una previsione di utile che si aggira intorno ai 400 500 mila euro con un fatturato complessivo di un miliardo e 300 milioni di euro mentre per il 2012 l'obiettivo ambizioso del portafoglio lavori è di raggiungere un miliardo ed 800 milioni di euro una sfida non impossibile se si tiene conto della capacità di acquisire lavori mostrata nel corso dei 100 anni di storia del consorzio solo lo scorso anno infatti c'è stata l'acquisizione del 25 per cento della società autostrade del tirreno e l'ingresso nella gara per il rinnovo della concessione dell'ammodernamento della 22 a fianco della società autobrennero solo per citare le imprese più virtuose ma è impensabile cullarsi sugli allori ed allora per il 2012 l'imperativo può e deve essere uno solo rimboccarsi le maniche ed andare avanti sperando in un'iniziativa del governo nazionale o europeo che punti alla riapertura del mercato del credito noi crediamo che sia a livello creditizio che a livello di impulso che deve venire sia dal governo italiano che anche dalla comunità europea sia necessario arrivare ad una definizione delle priorità e le infrastrutture sono una priorità che anno sarà il 2012 meno bello del 2011 pratica si può dire brutto il 2011 bruttissimo sarà il 2012 il problema del 2011 è stato sicuramente quello dei margini del fatturato c'è stato ma i margini sono decisamente bassi nel 2012 si verificheranno di nuovo invece tutti e due gli elementi una riduzione di fatturate e un contenimento ulteriore dei margini ed il presidente del consorzio cooperative costruzioni ha fatto il punto anche sulle infrastrutture bolognesi il people mover e il civis sentiamo sui lavori per il people mover non credo si possa andare oltre il mese di febbraio l'ultimatum arriva dal consorzio cooperative costruzioni che convinto della priorità delle infrastrutture ha però deprecato il sistema delle amministrazioni pubbliche limitate da due fattori quello burocratico e quello legato al conflitto politico al netto delle contestazioni dei comitati e degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del people mover l'amministrazione per oggi ha preso una decisione e dunque il tempo stringe febbraio e il limite massimo ma il presidente del consorzio ha parlato anche dell'inchiesta sul civis che lo vede indagato per corruzione insieme a Giorgio Guazzaloca il quale ha ritenuto opportuno rinunciare ad ogni possibile prescrizione al momento tutto è sospeso quindi si attende che l'evoluzione delle valutazioni in casa ATC e il comune si concluda non prevedo niente di buono E sulla decisione di Guazzaloca? Beh è da rispettare, Guazzaloca ha fatto le sue valutazioni e credo che sia da rispettare la sua scelta segno che ha la convinzione di essere nel giusto Cronaca, 8 chili di droga ed 8 proiettili sequestrati è questo il bilancio dell'ennesima operazione antidroga dei carabinieri di medicina che hanno smascherato un vero e proprio traffico di stupefacenti fino alla Romagna Alessia Salvatori Nuovo duro colpo inferto al traffico di droga sul nostro territorio il blitz è scattato ieri i carabinieri di medicina Budrio e Castenaso stavano svolgendo un'attività di contrasto allo spaccio proprio medicina e nei paesi limitrofi quando hanno scoperto che l'origine della sostanza stupefacente rinvenuta durante alcuni arresti per droga eseguiti l'anno scorso sempre in quel territorio proveniva da Massa Lombarda Dopo una serie di appostamenti durati giorni ieri pomeriggio la svolta con l'irruzione in un'abitazione del paesino Ravennate dove le forze dell'ordine hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi un 42enne con precedenti per truffa e un trentenne incensurato, entrambi pakistani e residenti a quell'indirizzo grazie anche all'ausilio delle unità cinofile i carabinieri hanno infatti scoperto, nascosti in cantina e in soffitta due chili di hashish chiusi in buste di caffè sei chili di marijuana confezionati in sacchettini di plastica e 27 grammi di cocaina l'ulteriore perquisizione personale effettuata sui due pakistani ha portato anche al sequestro di 2.175 euro in contanti altre bustine di sostanza stupefacente e otto proiettili inesplosi calibro 22 Ancora cronaca, mercoledì aveva arrestato uno spacciatore dopo un inseguimento di quasi un chilometro l'altra notte gli sono invece bastati 500 metri per riprendere un tunisino che non si era fermato all'alto della volante sui viali di circonvallazione di Bologna il poliziotto Maratoneta, 42 anni, in servizio al commissariato Due Torri San Francesco ha fatto il bis l'ex Fiamme Oro infatti alle 4 di ieri mattina è corso dietro al nordafricano che dopo essere stato invitato a fermarsi su Viale Aldini alla guida di una Fiat Brava ha accelerato, poi ha abbandonato l'auto vicino a Porta Santo Stefano ed ha proseguito la fuga a piedi anche l'agente è sceso dalla macchina e gli è andato dietro immobilizzandolo nei pressi di un distributore di benzina lo straniero, 38 anni con precedenti aveva una piccola dose di hashish nel giubbotto e non aveva mai conseguito la patente di guida per questo è stato multato e denunciato ora noi ci fermiamo, arriva la pubblicità rientreremo in studio fra poco con altre notizie restate con noi perché parleremo di sport, di basket Ancora in diretta dagli studi di Etg rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale giusto che i colpevoli paghino con mio padre non voglio più avere a che fare parla in esclusiva Radio Nettuno ed è TV il figlio di Roberto Savi famigerato capo della banda della Uno Bianca che ricorda il giorno dell'arresto del padre il caso Cancellieri infiamma lo scontro in consiglio comunale pronta a una mozione di sfiducia proprio contro la presidente Simona Lembi che verrà presentata lunedì da PDL e Lega Nord insieme il Consorzio Cooperative Costruzioni compie 100 anni e il presidente Piero Collina festeggia intanto aspetta l'ok per il People Mover che non può andare oltre febbraio sul fronte Civis dice rispetto la scelta di Guazzaloca di rinunciare alla prescrizione sotto processo a Bologna un napoletano di 37 anni residente in città accusato di stalking verso una collega di lavoro con cui aveva avuto una relazione la donna ha subito minasce, violenze e ora vive nel terrore Virtus sconfitta nell'anticipo di campionato sul campo di Cantù per le Vunere grandissimo inizio con un vantaggio fino a 14 punti poi il crollo da metà gara in poi finisce 78 a 72 per i padroni di casa e dunque parliamo di basket quindi dopo la grande partita contro il Siena la Virtus era attesa oggi dalla difficile impegnativa trasferta di Cantù ma i bianconeri sono stati sconfitti nonostante un grande inizio di match siamo collegati in diretta telefonicamente con il nostro Roberto Martini buonasera Roberto Simone buonasera a tutti non ce l'ha fatta la Virtus ma ha avuto una partita comunque positiva sotto di 6 punti 78 a 72 ma soprattutto ha giocato con autorevolezza sul campo più difficile d'Italia quello di Cantù dove difficilmente una squadra avversaria esce vincitrice la Virtus è stata capace di partire alla grande 19-11 poi ha subito un po' di rimonta di Cantù ma all'intervallo è andata comunque al comando 36-33 cosa è successo? che al ritorno in campo purtroppo Cantù ha dimostrato di essere la squadra che fa l'Eurolega la squadra che potrebbe vincere lo scudetto la squadra che ha una panchina interminabile insomma Cantù è uscita in quel momento ha messo la marcia superiore 31-17 il terzo quarto più 14 per la formazione lombada a questo punto un'altra squadra avrebbe sbraccato e invece la Virtus è stata capace di tenere botta ha giocato fino all'ultimo minuto è stata lì fino all'ultimo minuto non ce l'ha fatta ma è uscita come dicevamo a testa altissima le segnalazioni della partita vanno come sempre ad un generoso poeta all'intraprendente Coppone alla consistenza di Gigli un po' sotto tono anzi direi abbastanza sotto tono Sunny Kids ma non si può sempre pretendere il massimo per questo fenomeno giorgiano meglio in crescita Douglas Roberts ma direi che tutta la squadra ha giocato a livelli più che buoni una squadra che ha perso soprattutto in una partita nella quale ha tirato con il 50% da tre questo perché nonostante questo 50% da tre punti la Virtus ha perso perché ha buttato al vento 16 palloni e i palloni sono i possessi voglio dire se io ho 16 palloni in più ovviamente ho 16 piri in teoria in più e di conseguenza la Virtus un po' l'ha persa lì comunque sia onore a questa squadra che chiude il gironi di andata con questa sconfitta ma con un traguardo raggiunto la Final Eight di Coppa Italia grazie a Roberto Martini collegato telefonicamente che ha seguito la partita ora noi cambiamo argomento parliamo di teatro andiamo al Teatro Duse di Bologna in particolare dove fino a lunedì Gian Piero Ingrassia sarà il protagonista di Stanno suonando la nostra canzone una commedia musicale di Neil Simon che tanto ebbe successo negli anni Ottanta e che viene riproposta dunque al Teatro Duse l'intervista di Alessia Salvatori la commedia musicale al Teatro Duse di Bologna dal 13 al 15 gennaio stanno suonando la nostra canzone regia di Gianluca Guidi Stanno suonando la nostra canzone è una commedia musicale vecchissima Guidi credo che sia l'ideale per fare la regia di questo tipo di spettacoli così come Ingrassia credo che sia la persona ideale per interpretare questo personaggio la storia è molto semplice è la storia di un grande musicista di un musicista di Broadway il quale a un certo punto si innamora di una di una giovane che scrive parole per musiche e che lo accalappia un po' per cercare di mettersi in mostra e fare strada all'interno di questo mondo Neil Simon che è l'autore e bisogna citarlo come uno dei più grandi autori del novecento senza ombra di dubbio americano ha vissuto questa storia diretta perché l'autore musicale era quello che stava lavorando con lui su una serie di commedie al che gli ha scritto praticamente addosso perché nel momento in cui ha visto come si svolgeva questa storia tra lui e questa ragazza ha detto no è troppo interessante troppo divertente su questo scrive una commedia musicale ed ora ci fermiamo ancora una volta rientreremo in studio fra poco restate con noi e c'è tempo di rileggere i nostri titoli è giusto che i colpevoli paghino con mio padre non voglio più avere a che fare parla in esclusiva Radio Nettuno è TV il figlio di Roberto Savi famigerato capo della banda della Uno Bianca che ricorda il giorno dell'arresto del padre il caso cancellieri infiamma lo scontro in consiglio comunale pronta una mozione di sfiducia contro la presidente Simona Lembi che verrà presentata lunedì prossimo da PDL e Lega Nord insieme il consorzio cooperative costruzioni compie cent'anni e il presidente Piero Collina festeggia intanto aspetta l'ok per il people mover che non può andare oltre febbraio sul fronte civis dice rispetto la scelta di Guazzaloca di rinunciare alla prescrizione sotto processo a Bologna un napoletano di 37 anni residente in città accusato di stalking verso una collega di lavoro con cui aveva avuto una relazione la donna ha subito minacce e violenze e vive nel terrore Virtus sconfitta nell'anticipo di campionato sul campo di Cantù per le Bunere grandissimo inizio con un vantaggio fino a 14 punti poi il crollo da metà gara in poi finisce 78 a 72 per i padroni di casa ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti